La grande incognita saranno i tempi, ma ormai il conto alla rovescia per l'addio allo speed è partito. Ancora per tutto quest'anno si potrà continuare a usare il sistema di identità digitale, ma poi pian piano le sue funzioni finiranno nella CIE, la carta di identità elettronica. Sulla base delle indicazioni dell'Unione Europea, il Governo è intenzionato a togliere a provider sostanzialmente privati come Aruba, Tim, Intesa, l'erogazione e la gestione dei servizi della pubblica amministrazione e farli tornare sotto il controllo dello Stato. D'altra parte Bruxelles è stata chiara, l'identità digitale richiede un livello di sicurezza che solo la carta di identità elettronica è in grado di garantire. Per questo già da quattro giorni il Ministero degli Interni ha attivato nuove funzionalità attraverso le quali si potrà accedere facilmente con la propria carta di identità elettronica al sito dell'Inps o dell'Agenzia delle Entrate o prenotare una prestazione sanitaria, tutti i servizi finora garantiti soltanto dallo speed. Basterà abilitare online la CIE con le proprie credenziali tramite username e password o attraverso un codice temporaneo da inserire all'interno dell'area riservata. Ma il vero problema potrebbe essere ancora una volta la burocrazia. Ognuno di noi infatti può creare sostanzialmente da sé lo speed o tutt'al più con l'aiuto dei centri di assistenza fiscale, mentre la carta di identità elettronica è rilasciata solamente dai comuni. E se nei piccoli centri è poco il tempo per averla, nelle grandi città tra l'appuntamento da prendere online, la consegna di foto e moduli nel giorno fissato e il ritiro fisico del documento possono passare anche diversi mesi. A Roma abbiamo fatto una simulazione, il primo appuntamento disponibile è il prossimo 25 settembre.